Spazio Notizia Il bilancio parla di 6 persone denunciate, 4 d'aspo e anche della sostanza stupefacente sequestrata. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri del comando provinciale di Siracusa, nel corso di mirati servizi coordinati sul territorio finalizzati a contrastare episodi di movida violenta e disturbo della quiete pubblica, hanno proceduto a una serie di controlli nell'isola di Ortigia che hanno portato alla denuncia di 6 persone, alla notifica di 4 d'aspo, al sequestro di complessive 30 dosi di ascice e cocaina e al sequestro preventivo di un locale, sede di un circolo di tifoseria sportiva. Gli uomini dell'arma hanno avviato la serie di controlli dopo un'aggressione avvenuta in un ristorante di Ortigia in danno di un cittadino inglese, riuscendo a identificare e denunciare in stato di libertà 5 persone di età compresa tra i 18 e i 34 anni per lesioni personali e danneggiamento in concorso, risultate appartenenti alla frangia estrema di una tifoseria sportiva locale. Per 4 di loro, i carabinieri hanno richiesto anche l'emissione della misura di prevenzione del cosiddetto daspo Willy. All'interno della sede del Club Ultra, frequentato da alcuni degli indagati, il cane antidroga ha segnalato la presenza di stupefacenti, sostanze già predisposte in dosi e pronte per lo spaccio, nascoste in intercapedini appositamente ricavate dietro gli scaffali in legno utilizzati per l'esposizione di magliette e striscioni. Due uomini di 32 e 68 anni sono stati denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'allarme lanciato dall'associazione ambientalista Mare Amico, l'erosione costiera sta facendo scomparire le spiagge di Agrigento. Il prossimo anno Agrigento sarà la nuova capitale italiana della cultura, ma i turisti che visiteranno la città rischiano di non trovare più le spiagge. A lanciare l'allarme attraverso un post sui propri canali social è l'associazione ambientalista Mare Amico. L'erosione costiera, si legge, continua a erodere le nostre coste e minacciare le infrastrutture viarie. Tutto ciò è molto grave, anche perché questo sta avvenendo durante la stagione estiva. Bisogna intervenire immediatamente, prosegue la nota di Mare Amico, altrimenti durante l'inverno sparirà per sempre il boschetto delle dune e la vicina strada. L'associazione lancia poi un appello al presidente della regione siciliana Renato Schifani e all'assessore al territorio e ambiente, l'agrigentina Giussi Savarino, affinché trovino le somme necessarie per cercare di far rallentare l'inesorabile processo erosivo prima che sia troppo tardi. Lavori infiniti sulla statale 284, ma finalmente c'è una buona notizia, ovvero la data ufficiale di conclusione dei lavori sulla tratta Bronte-Adrano. Senatore Pino Firradello, quest'opera l'ha ideata, l'ha fatta finanziare, l'ha seguita per 40 anni e adesso finalmente vede la sua nascita. Fra un anno dovrebbe essere tutta completata, con la presenza dell'onorevole De Micheli, lei però ha sottolineato che in Sicilia fare un'opera pubblica è faticoso tre volte di più rispetto che al nord. E non è possibile pensare che per realizzare 18 km di strada si devono imbiegare 40 anni. E' una cosa inverosimile. Questo significa scoraggiare le persone, farle scappare dalla Sicilia. Non c'è futuro per la Sicilia in questo modo. Devono pure provvedere a trovare delle soluzioni adatte, perché possono essere velocizzati i tempi della realizzazione dell'onopera. Credo che questa ormai dovrebbe arrivare a conclusione, grazie all'onorevole Pitto, che fu l'ultimo che fece un grande finanziamento di 115 milioni, e di conseguenza i due lotti, uno è completo e questo dovrebbe essere completo tra un anno. Onorevole Paola De Micheli, quanto è soddisfacente venire in Sicilia, che ha sete di infrastrutture, e vedere che fra un anno ci sarà una infrastruttura nuova? Beh, per me, che insieme ad Antony, insieme al sindaco precedente e attuale, abbiamo così tanto voluto quest'opera e soprattutto l'abbiamo finanziato quando eravamo al governo, è ovviamente una grandissima soddisfazione. Tra l'altro è un'opera che, vista dal progetto, sembra un pochettino più semplice, ma vista dal vivo è anche un'opera che ha una complessità importante, considerate tutte le interferenze e l'antropizzazione di quest'area, e credo che sia un'opera che rappresenterà, come tutte le infrastrutture, un punto di svolta per questo territorio, rendendo la vita delle persone e delle imprese migliore. Vedere che una cosa che ha evoluto, finanziata, a un certo punto si realizza in un'area che ha fame di infrastrutture, ma rispetto alla quale il Paese deve delle infrastrutture, rispetto ad una intensità che si è caratterizzata per una pesante disuguaglianza nel tempo, beh, è una soddisfazione doppia. Abbiamo fatto un grande investimento sulla Sicilia e adesso questo grande investimento inizia a diventare un fatto. bene per le siciliane e i siciliani è per noi, diciamo così, un punto a favore della nostra volontà e capacità di fare le cose. Parliamo adesso di agricoltura. Resta stabile il prezzo dei terreni agricoli a scoraggiare e il clima, ma anche la guerra. Resta stabile la compravendita di terreni agricoli nel 2023. L'aumento del prezzo medio è stato di circa l'1% rispetto all'anno precedente, per un valore di 22.800 euro ad ettaro. A scoraggiare gli investitori sono l'incertezza della situazione internazionale e l'estrema variabilità climatica. E' questo il quadro che emerge dall'indagine sul mercato fondiario, curata dalla Crea, Politiche e Bioeconomia, con il CONAF, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali. Si tratta di un mercato fondiario statico, ma a due velocità, dove cresce la domanda per i terreni evocati a produzione di qualità, ma non per quelli marginali, specie nelle aree interne, dove spesso l'offerta non trova rispondenza. Le opportunità offerte dal piano strategico della PAC 2023-2027, secondo l'indagine, non hanno ancora avuto un effetto evidente. Evidenti invece le differenze dei valori medi per ettaro, con il picco di 47.000 euro nel nord-est, seguito dal nord-ovest con circa 37.000 euro, e dal centro e dal sud sotto i 16.000 euro. Più numerosi gli scambi nelle aree con maggiore redditività delle colture viticole e frutticole site nel nord. Stabile anche la situazione del mercato degli affitti per quanto riguarda il livello dei canoni, con qualche eccezione legata all'aumento della domanda di superficie agricola da parte di giovani agricoltori al primo insediamento e della siccità per compensare le minori produzioni. Anche in questo caso la domanda ha prevalso sull'offerta, per lo più nelle regioni settentrionali, con un aumento dei contratti e delle superfici, soprattutto nelle zone a colture di pregio. Secondo i dati del settimo censimento dell'agricoltura Istat, nel 2020 la superficie in affitto è di 6,2 milioni di ettari, con un progressivo aumento delle dimensioni medie. Nonostante gli operatori prevedano una tendenziale crescita del mercato, l'aumento dei costi di produzione, la volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli e i fenomeni climatici estremi favoriscono un atteggiamento prudenziale da parte di potenziali investitori. E sempre a proposito di agricoltura, l'Unione Europea alza il tetto dei fondi PAC. Via Libra da Bruxelles ai Paesi membri avversare anticipi più elevati di fondi della politica agricola comune, denominata PAC, ai produttori agricoli. Dal 16 ottobre gli agricoltori potranno ricevere fino al 70% dei loro pagamenti diretti in anticipo rispetto al 50% attuale, mentre i pagamenti anticipati per interventi basati sulla superficie e sugli animali del Fondo di sviluppo rurale potranno essere aumentati fino all'85% anziché l'attuale 75%. La misura, ha spiegato un portavoce dell'esecutivo dell'Unione Europea, è pensata per andare incontro alle difficoltà degli agricoltori in termini di liquidità, in particolare a causa di eventi meteorologici estremi che hanno avuto un impatto sulle rese negli ultimi anni, nonché di alti tassi di interesse sui mercati finanziari europei e prezzi elevati di input e materie prime agricole. Parliamo adesso di lavoro, oltre 6 milioni di euro per l'assunzione di 400 apprendisti under 23 nel settore della gastronomia. Oltre 6 milioni di euro a sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiane. È stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il primo decreto di concessione delle agevolazioni alle imprese operanti nei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria, che hanno presentato domande a valere sul fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiane, misura a giovani diplomati attraverso la piattaforma gestita da Invitalia. Con questa misura formiamo i giovani e garantiamo alle imprese personale specializzato. Il governo Meloni dimostra ancora una volta la volontà di supportare attivamente i settori cruciali dell'agroalimentare italiano, investire nelle future generazioni e assicurare a chi vuole lavorare nel mondo della gastronomia una crescita professionale necessaria per mantenere la competitività e la qualità del Made in Italy, ha affermato il ministro Francesco Lollobrigida. Ad oggi, precisa il Masaf, sono state concesse agevolazioni a 245 imprese per oltre 6 milioni di euro a fronte di investimenti generati di circa 13 milioni di euro per l'assunzione con contratti di apprendistato di giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. Nel dettaglio, sulla base delle domande presentate, si prevede l'assunzione di oltre 400 apprendisti under 30, di cui circa 300 nel settore della ristorazione e circa 100 nei settori della pasticceria e gelateria. Dal momento che per il fondo risultano ancora disponibili oltre 9 milioni di euro, spiega ancora il ministero, è stato riaperto lo sportello di presentazione delle domande di contributo per questa misura. Le richieste potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 1 ottobre 2024 e fino alle ore 12 del 31 ottobre 2024. Nelle prossime settimane, invece, verrà pubblicato un secondo decreto di concessione a favore di ulteriori imprese beneficiarie per circa 3 milioni di euro. Avviato nel comune di Gangi un corso di alfabetizzazione dedicato agli stranieri. Avviato a Gangi il corso di alfabetizzazione per stranieri è firmata la convenzione tra il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, il comune di Gangi e l'Istituto Comprensivo Francesco Paolo Polizzano. Gio 21 gli studenti che frequentano le lezioni. Una necessità quella dell'attivazione dei corsi dall'arrivo nel comune Madonita di diversi giovani argentini che hanno preso la residenza per acquisire la cittadinanza italiana. Si tratta di ragazzi discendenti di avi italiani, molti di origine gangitana. Ad organizzare i corsi è il Centro Palermo II che ha sede amministrativa a Termini Imerese. Il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti è una tipologia di istruzione scolastica autonoma dotata di un proprio organico e di un assetto didattico organizzativo focalizzato sull'apprendimento permanente. La didattica prevede percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati al rilascio dell'attestazione di conoscenza della lingua con la possibilità del conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, ex licenza media, ma anche un secondo percorso didattico per l'assolvimento dell'obbligo formativo e finalizzato al rilascio di certificazioni delle competenze legate al pieno esercizio della cittadinanza attiva. Sono 21 i ragazzi già frequentanti il corso, dichiara il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello. A questi giovani stranieri vogliamo offrire la possibilità di imparare la lingua italiana e facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. Si tratta di giovani con un livello di istruzione elevato. Abbiamo avuto, e per questo lo ringrazio, la disponibilità del preside dell'Istituto Comprensivo Poliziano, il professor Francesco Serio, che ci ha concesso i locali della scuola elementare del plesso di San Paolo. Questi corsi sono anche un importante momento di socializzazione e potranno essere seguiti anche da cittadini italiani che ne hanno la necessità. Ringrazio per l'impegno e la collaborazione nell'aver raggiunto questo obiettivo anche la Presidente del Consiglio Comunale, Concetta Quattrocchi, e l'assessore alla pubblica istruzione, Roberto Franco, e ancora per la disponibilità il dirigente del CPA, Fabio Pipitò. Parliamo ora del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. È stato un grande successo il concerto Tributo a Siracusa dedicato a Morricone. La monumentale ara sacrificale, la più antica dell'età ellenistica fatta costruire da Ierone II, è ritornata a respirare d'arte e di musica grazie all'evento Tributo al più compositore del Novecento italiano Ennio Morricone in occasione dell'edizione 2024 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. All'interno del Parco archeologico siracusano si è inneggiato all'eternità grazie alle sontuose e ottime performance degli artisti coinvolti in occasione del concerto realizzato per recuperare l'evento annullato presso la città di Noto. Un trionfo di pubblico, a corso numerosissimo, un tripudio di emozioni, un incalzare di sentimenti. Ecco la qualità degli eventi firmati coro lirico siciliano. Oltre due ore di musica scandite da applausi continui e scroscianti, perenni ovazioni da parte del folto uditorio che ha infiammato la prestigiosa cornice che si erge dirompente all'interno della Neapolis Saretusea, grazie alla convincente prova dell'orchestra in residence della Kermesse Artistica, l'orchestra filarmonica della Calabria, diretta dalla bacchetta dinamica di Giovanni Pompeo, dalla maestosa corposità vocale del coro lirico siciliano e dalle interpretazioni intime e accorate del soprano Maria Francesca Mazzara e del tenore Lorenzo Papasodero. Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra concluderà l'edizione 2024 nel cuore barocco e vitale della città etnea, il teatro greco-romano di Catania, con un imperdibile dittico musicale. Il capolavoro in un atto di Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana, il 21 settembre, e il recital di Diana Damrau, autentica regina del bel canto, il 22 settembre. Ancora una volta una programmazione di alto livello, che riscuote sempre crescenti successi di pubblico e critica per una kermesse di prestigio internazionale, ascesa tra le stagioni di riferimento nell'isola e nel Mediterraneo. Ci fermiamo qui, ma ovviamente ci ritroviamo più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.